Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali. Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film di Alberto Sordi? Magari. Ma che siamo in un film di Alberto Sordi? Ma che siamo in un film di Alberto Sordi? Sì, siamo... Bravo, bravo. Te lo meriti, Alberto Sordi. Ciao. Te lo meriti, Alberto Sordi? Deci anni mai mannato a quel paese Sapessi quanta gente che c'è sta E' il primo cittadino e amico mio Tu digli che te c'ho mannato io Mi dispiace Ma io so io E voi non siete un cazzo E voi non siete un cazzo E voi non siete un cazzo Oh, buongiorno E voi non siete un cazzo insiste perché io faccia un'apparizione sia una presenza sì ma che esattamente che può farmi dica se io le posso dare un succedimento quello che abbiamo già fatto a spagliacciare così come due vitelloni ricordando i vecchi tempi e guardandoci in faccia ritrovando città lì e qua poi ci ha fatto il primo vitelloni no ma parte il primo anzacco del risale siamo fatti lavoratori a Grazie a tutti.